Puoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparente. Buongiorno ragazzi, quest'oggi vi propongo in vendita questo bellissimo camion adatto al trasporto fieno, completo di rimorchio Scania R560, motore V8 in perfette condizioni generali. Vi faccio sentire come parte. Vediamo un po' la macchina qua, la parte sotto, il telaio, la macchina da unico proprietario padroncino, ribassata, ecco le gomme del carrello, ecco le gomme dell'asse traino. Queste sono le condizioni sotto, nel telaio, terzo asso intelligente, serbatoio da 600 litri, adi blu perfettamente funzionante. Facciamo parlare un attimo il motore. Scania V8 560 cavalli, faccio vedere un po' la cabina. Guardiamo l'altro lato della cabina, macchina già disponibile in pronta consegna. Dopo vi parlo di più sulla Centina, questi sono i telecomandi delle Centine, praticamente sono automatiche, alza bassa, adatte al trasporto di foraggio. Vi faccio un attimo vedere i chilometri. 968 mila chilometri, full optional, nella descrizione trovate le lunghezze, le misure, abbiamo il frigorifero da cabina, per le bibite, retarder. Questo è l'impianto dell'alza bassa, che funziona con il radiocomando, guardate un po' la marmitta, nessun fumo, facciamo un po' due accelerate, facciamo cantare il motore Scania. Avete sentito? Questa è musica per gli intenditori. Vediamo un po' il cassone, guardate un po' le condizioni del cassone, perfettissime condizioni generali. Guardiamo il tetto, adatto al trasporto di foraggio, di fieno. Andiamo a vedere un po' il rimorchio. Queste sono le gomme del rimorchio, anche belle. Vediamo un po' le condizioni sotto. Molto sano, molto bello. Questo è l'impianto dell'alza bassa, sempre automatico. Guardiamo un po' le condizioni interne del rimorchio, anche bellissime. Vedete un po' come sono belle. Il piano di carico. Questa è una macchina d'amatore, tenuta benissimo, in perfette condizioni generali. Allora andiamo a controllare lo sfiato del motore. Guardate qua, pulitissimo. Il tappo. Tutto a posto, guardiamo un po'. Guardate. Nessuno sfiato. Controlliamo il liquido del radiatore. Vediamo il tappo dell'acqua. Vuoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparenti. Grazie.